Bentornato sul canale YouTube di Semprefarmacia.it. La prolattina è un ormone che svolge diverse importanti funzioni, tra le quali la più nota e quella intuibile dal nome è la stimolazione della produzione di latte materno. Chiaramente è un ormone importantissimo e la sua presenza, anche con valori molto elevati, è perfettamente normale in gravidanza e allattamento. Tuttavia, valori troppo elevati, in assenza di esigenze fisiologiche particolari, possono dare diversi problemi sia uomini che donne e influenzare negativamente la fertilità. Vediamo quindi a cosa serve la prolattina, come si misura e quali sono i valori considerati normali. Capiamo anche quali sono i sintomi della prolattina alta e come si interviene. Se il video ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale. La prolattina è un ormone prodotto dall'ipofisi, la più importante ghiandola secrezione interna del nostro corpo. Infatti, nonostante abbia dimensioni ridottissime e pesi meno di un grammo, l'ipofisi secerna è degli ormoni che regolano l'attività di altre ghiandole molto importanti, come ad esempio la tiroide. La secrezione della prolattina ha diversi effetti sull'organismo, ma le funzioni più conosciute sono lo sviluppo del seno insieme agli estrogeni durante l'età puberale, l'inibizione dell'ovulazione e quindi del ciclo mestruale durante la gravidanza e l'allattamento e la produzione di latte materno in seguito alla suzione da parte del neonato. Normalmente la produzione di prolattina da parte dell'ipofisi è molto bassa, ma aumenta anche di 20 volte fisiologicamente durante la gravidanza per poi rimanere alta durante l'allattamento. I livelli di prolattina tendono ad aumentare lievemente anche in seguito a stimoli come l'esercizio fisico o l'attività sessuale, in seguito a forti stress o a traumi della parete toracica, compreso quello provocato dall'herpes zoster. Esclusi i normali stimoli fisiologici, l'aumento della prolattina può avere diverse cause, tra le quali l'assunzione di farmaci come oppiacei ed estrogeni ad alto dosaggio, antidepressivi e antipsicotici, antiemetici e antipertensivi. Altre cause sono gli adenomi ipofisari, cioè piccoli tumori dell'ipofisi o anche la sindrome della sella vuota, cioè una malformazione della regione del cranio che ospita l'ipofisi. La prolattina alta può anche essere secondaria ad altre patologie come l'ipotiroidismo, l'ovaio policistico e l'insufficienza renale. Esistono anche casi in cui non è possibile individuare una causa della prolattina alta e in tal caso si parla di iperprolattinemia idiopatica. La misurazione della prolattina richiede un semplice prelievo venuso che però deve essere effettuato al mattino, a digiuno e preferibilmente dopo 3-4 ore dal risveglio, per non andare a inficiare le analisi con il fisiologico aumento della prolattina che si ha durante il sonno. Inoltre, per essere certi che i risultati non siano falsati dallo stress del prelievo, è importante effettuare il prelievo di sangue dopo almeno 10 minuti dall'inserimento della gocannula in vena e ad intervalli regolari lasciando il paziente disteso e a riposo. I valori di prolattina vengono espressi in nanogrammi per millilitro. I valori di riferimento variano a seconda del laboratorio, ma in media non superano i 23-25 per le donne e 15-18 per gli uomini, mentre in gravidanza e allattamento è perfettamente normale superare i 200. Quando i valori di prolattina superano quelli di riferimento si parla di iperprolattinemia e i sintomi differiscono tra uomo e donna. Nelle donne l'iperprolattinemia è più frequente e si manifesta generalmente con alterazioni del ciclo mestruale, con ritardi o addirittura assenza delle mestruazioni. Ancora galattorrea, cioè escrizione di latte dai capezzoli con o senza spremitura degli stessi, dolore durante i rapporti sessuali e osteoporosi. Infine aumento di peso correlato all'aumento della ritenzione dei liquidi e al rallentamento del metabolismo. Negli uomini la prolattina alta si manifesta con perdita del desiderio ed impotenza, riduzione della produzione degli spermatozoi e ginecomastia, cioè l'ingrossamento delle mammelle. Quando la prolattina alta è causata da un tumore dell'ipofisi molto grande possono esserci anche i sintomi derivanti dalla compressione sul chiasmo ottico e quindi difficoltà visive oppure sintomi neurologici come la cefalea. In caso di prolattina alta se si individua una causa specifica chiaramente si cerca di intervenire prima di tutto su di essa. Se il responsabile è un farmaco sarà il medico a stabilire come se modificare la terapia ed è importante non sospenderla in autonomia. L'iperprolattinemia può essere comunque tenuta sotto controllo sostanzialmente grazie all'impiego di due farmaci, la bromocriptina e la cabergolina. Grazie all'impiego di questi farmaci è possibile anche ridurre le dimensioni di adenomi ipofisari piccoli ed evitare così l'intervento chirurgico al quale comunque si ricorre molto raramente. Parallelamente alla terapia farmacologica è importante cercare di ridurre lo stress e quindi intervenire sullo stile di vita e curare l'alimentazione per evitare l'incremento di peso. Abbiamo visto cos'è la prolattina, ormone molto importante ma da tenere sotto controllo. Se hai domande lascia un commento, un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.